L'artista che sta arrivando adesso è un vero imperatore, un imperatore in passato del reggae questa sera lo troviamo con un motivo che ha un ritmo non ben definibile ma in ogni caso molto piacevole e molto allegro il motivo è Gimme Up Joanna, lui è... Eddie Grant! 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 Eddie Grant!